La scure di Fitch non risparmia UBS. Il colosso svizzero è tra i quattro istituti di credito europei di cui l'agenzia di notazione ha tagliato il rating. Accompagnato da prospettive comunque stabili, il declassamento di UBS da A più ad A è stato motivato con la possibilità estremamente elevata di un sostegno delle autorità svizzere. Declassate anche Lloyds e Royal Bank of Scotland, Fitch ha messo sotto osservazione altre 12 banche.